Qual è la tecnologia digitale? Per affrontare i mercati in maniera completamente nuova e diversa rispetto al passato, vale a dire che il digitale deve essere alla porta di tutti, quindi la semplificazione dei processi e le tecnologie che devono consentire di poter creare in totale autonomia, logicamente con la connessione con la rete di persone, aziende, servizi che ci consentono di velocizzare i processi, nel andare a sviluppare prodotti di nicchia non solo in maniera locale ma in modalità globale. Chiudo con quella che è la massima che cerco di portare avanti da sempre che è sapere, quindi la conoscenza, fare, sporcarsi le mani e mettersi in prima linea a fare, saper fare, quindi far bene, andare su una nicchia e cercare di colpirla al meglio e per ultimo far sapere, quindi condividere tutto quanto al resto del mondo usando la rete come elemento di conoscenza da una parte e di espansione dall'altra. Grazie.